bella a tutti ragazzi e benvenuti io sono chiude allora amore mio questi ragazzi hanno hanno fatto i pazzi sono riusciti nel giro di da un giorno all'altro a farci fare due contest vi ricordo ragazzi oggi il 31 maggio ieri abbiamo fatto un contest oggi è ripartito il timer degli iscritti necessari durante il giorno per poterne fare un altro era difficilissimo ma voi ce l'avete fatta quindi ragazzi come di consueto adesso la pamina vi dirà la parola d'ordine vi ricordo ragazzi di quello che cosa devono fare dovete scriverlo solo una volta se non verrete conteggiati dovete mettere un bel like e poi dovete essere presenti al momento dell'estrazione che sarà le 22 se non la metti sotto pressione le sa le cose non è che non le sa ricordo dell'ultima volta mi raccomando commentate sotto il video viva il carrello della spesa noi ci vediamo in live ciao